No cyberbulli, le tematiche affrontate nel workshop organizzato dall'associazione Elpi, Solus e dal comune di Pavia sono il bullismo e il cyberbullismo e la sensibilizzazione a distruire i giovani ad un uso responsabile delle tecnologie informatiche, di internet e dei social network perché sviluppino competenze sociali e civiche di cittadinanza nell'ambito della rete, nel rispetto delle regole della convivenza civile. No cyberbulli, perché questa iniziativa e a chi si rivolge? Allora, il non cyberbulli è quasi un'iniziativa un po' obbligata, Elpi, Solus si occupa di adolescenti, di ragazzi, il problema del bullismo e cyberbullismo oggi forse sta avendo dei numeri, dei risvolti forse eccessivi secondo noi. Non possiamo come adulti essere sempre lì a giudicare i ragazzi e mai essere al loro fianco, dobbiamo essere al loro fianco spiegando e insegnando alcuni rischi dell'uso di tecnologie perché ai telefonini i dati poi sono altissimi, 80% dei ragazzi che ha il cellulare lo hanno ad età ormai all'elementare forse, neanche alle medie, per cui serve perché parliamo, mandiamo messaggi, sappiamo dove è il nostro figlio, ma col telefonino si possono fare dei gesti, delle azioni forse che fanno troppo male. No al cyberbullismo è un progetto di prevenzione che può essere esportato anche in altre realtà scolastiche. Sì, parlare di cyberbullismo nelle scuole è un'iniziativa fondamentale perché permette di fare prevenzione, di parlare con i ragazzi, di parlare con gli insegnanti e soprattutto di responsabilizzare i ragazzi rispetto ad una tematica che li coinvolge direttamente. È il primo intervento che organizziamo di questo genere con l'associazione Elpis, nel senso che Elpis lavora da tanti anni nelle scuole, sul tema del bullismo. Quest'anno abbiamo concordato insieme a loro di, prima di tutto, abbassare un pochino il target di età per cui scendere alla scuola media perché purtroppo il fenomeno è sempre più frequente anche nei ragazzi più piccoli e poi appunto affrontare in particolare il tema del cyberbullismo, quindi di tutto quello che si muove sui social.